Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Shiva in questo nuovo video di Fallout 4 Bene andiamo pure nella stazione della Guardia Nazionale per fare tutta la missione e cercare il secondo paladino O almeno il suo segnale E vediamo che succede Dopo troviamo anche la chiave per prendere l'armatura Non c'è problema Qui ricordo Che c'era Da divertirsi Ah poi conchetti io mi spattacco sempre Qualcosa che non va Dovremmo andarcene Lei e Valentine sono i miei compagni preferiti Veramente li adoro Allora Controlliamo bene il terimetro Non c'è niente E andiamo nella seconda fase Oh c'è tanto da esplorare qui bene Qui e questo Ottimo C'è qui c'è qua Qua E ti mi raccomando non mi attirare troppa gente Ho acqua purificata Ho fatto una mira che da panico Poi ho preso nessuno Ok Un altro Ah anche da sopra E' stato facile Ma poi ho preso anche un quadro Dicidenti Allora Vediamo un po' Vediamo Uno alla volta Perché non so mai Allora Qua Poi Allora siccome c'è qui In giro uno che Mi Come posso dire Rigenera tutti Mi fa nascere Vorrei evitare Che Venisse Indietro Tutta la banda Di quel qua Quindi Ok Storchiamo tutti E siamo a posto Così anche se Dovesse rianimarli Ecco da pirlotta Va bene Siamo tutti a posto Nucleo Sacca di botta di sangue Ottimo Le Varie cose Varie cose Questo mi interessa parecchio C'è una collezione Una mentas Kate comunque Costi lì lontano Da me Cavolo Mi arriva da dietro Questo coso lungo Una quarantina di centimetri Non è piacevole Insomma Allora Vediamo un po' Un'altra porta Ghoul ferali di merda Questa poveretta Non aveva speranze Eh no Non ce l'aveva Cara Kate Non ce li aveva Le speranze Ecco qui il secondo Ed ecco qui Questo Adesso prendiamo tutto Eh ragazzi Un attimo solo Eh Allora C'è la diffusione Ho la medaglia La pistola Questo è buono È parecchio buono Però non mi interessa Ho la nostra del cavaliere Austin Lo vediamo subito Vediamo un po' Qua Parie Ho la nostra del cavaliere Austin Eccolo qui Sentiamolo Eh Ho la medaglia Scusate Eh Ho la nostra del cavaliere Austin Eccolo qui E' un po' Cavaliere Tara Astlin Squadra di ricognizione 429 Alpha Della confraternita D'acciaio Matricola 3431 Sono trascorse tre ore Da quando ho attivato Il mio segnalatore Di pericolo Nessun contatto Da parte del paladino O di Ferris Il loro obiettivo Era la stazione Satellitare Sulla costa Potrebbero essere Fuori portata Avevo l'ordine Di difendere Questa posizione A ogni costo Il sito è stato Completamente invaso La porta non reggerà Ancora per molto Paladino Brandis È stato un onore Eh Purtroppo Sappiamo come è andata Abbiamo visto Va bene E questo è già il secondo Oddio Se ne manca un altro E c'è un'altra Matura Atomic Anche col terzo Bene bene Adesso questa La spaviamo tutta Perché ci offre Veramente tante cose E Di piacevoli Allora Cosa Due posti Però qui non posso Ancora andarci Perché mi serve Ecco Oh Salve Cucire d'assalto Bello Mi piace molto Mi si è piaciuto tanto Ci vuole Una passo Che adesso andiamo a prendere Non vi preoccupate Vediamo subito Salviamo Che è il porto di dio Vediamo se c'è qualcuno Carichiamo Abbiamo caricato Le veloce a tamburo Oh sì Oh cazzo Stavo cadendo Vediamo un po' Scusate Ma Bisogna di girare bene Ecco qua Ah non c'era niente Motivo Forse mi ricordo male Andiamo un altro po' Qua Andiamo qua Forse mi ricordavo male Questo è il quadro caduto Mamma mia Questo è quello che abbiamo avanzato E qui dobbiamo entrare E dovrebbe essere qui il codice Se non ricordo male Scusate Chietto di sigarette Guardi sigarette Password Ottimo E qui non si può passare Questo è un ombre Oh Ci dà una roba che io proprio non ricordo Forse E mi sembra che questo fosse It Forse insomma Sì Chiaro no? Ok Andiamo avanti Tanto ancora da vedere Andiamo di qua Andiamo qui E Eh Sì Abbiamo fatto questa Abbiamo fatto quella Di logica Dovevo fare questa Vediamo cosa c'è A parte Oh salve Ottimo Mi piacciono le cose vecchie Mi piacciono i soldi Alla parte del passato Mi serviranno Non è che mi piacciono Mi servono proprio E quindi sì Perfetto Abbiamo preso altre cose Vediamo se c'è Qualcos'altro Non c'è nulla Qui Sì 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 Ottimo Altre cose Affone Cerchiamo di vedere se c'è qualche Cosa Perché non si sa mai Potrebbe esserci anche qui Una Di quelle Sorprese Molto piacevoli Qui cosa c'è? Abbiamo fatto sì E quindi guardo le scrivanie Guardo tutto Dopo non c'è niente Per adesso me ne andrei Di sotto E qui ho fatto tutto E posso passare anche di qui E adesso lui mi dice Esatto Possiamo entrare Senza problemi Perfetto Comando della porta di sicurezza Apro Entriamo E si dà una mossa Vedete un po' Sono macchine vecchie Eccoci qua Siamo entrati anche qui Accogliamo queste Perché sono importanti Eccoci qua E adesso Andiamo Eccoci qua E siamo Quasi Oh sì che ci siamo Carmi Rassata Oh ma mi ha tolto Perfetto Ottimo Menomiamoli Perché non si sa mai Ok Perfetto Ottimo E sembrerebbe Puoi sparare da qua A chi Stai guardando Va beh Andiamo pure qua Scusate Vai Eh so un po' Davanti indietro E Cetera eccetera Ok Oh Oh no Ti ho fatto Pedro un corpo Guarda Ho gli stivali sporchi di sangue Sono quelli Io sono tutto zaccherato qui Allora Ok Così almeno L'altro le punizioni ne abbiamo Non c'è problema Salve Sono sicura di aver sentito qualcosa Devo spappolarti Scusi Mi scusi tanto Ma Questo si rianimano E' cosino Allora Riesco a spappolarli Accidenti Oh Finita Perché qui so che c'è Un tipo che li rianima E non vorrei Trovarmi L'esercito alle spalle Attraverso la saliva E tagliti la testa Un altro secondo E rieccomi Allora Spendiamo il tutto Qui c'è tanta roba Che dopo prenderemo da dietro Ok Qui c'è questo qua Vediamo se la testa La faccio esplodere Oh Così almeno Uno in meno E niente Da qui Arriveranno eh Arriveranno Eccolo qua Poverino Si è fatto malo Eh si Può darsi Ok carichiamo Meglio che Usiamo la 2 way E ci curiamo Quindi siamo a posto Una salvatina Non fa mai male Andiamo pure Dovemo andare sia di qua Che di là Andiamo più di qua Va Vediamo cosa c'è Ok Via Troppo spezzato in 2 Ecco qua Adesso Questo C'è la password Vediamo cosa si dice Mande della porta Remoti Sblocca Porta Ottimo E questa E' aperta Poi Vediamo più cose possibili Rispegniamo Vediamo cosa ci può Oh salve Una mini nuke Ottimo Non le troviamo mai Cavoli Eh è l'ora che Trovassimo qualcune Eh qui c'è una pianta Una pianta crassa E non c'è nient'altro Potiamo anche uscire E andare in quella dopo A distanza Che è questa In effetti ce ne sono due Prendiamo il pazzolone Che è necessario Di evitare l'importanza Qui Vediamo cosa c'è Eh cose utili alla fine Catboy non l'uso mai però Serviranno anche quelli Eh non c'è niente Non c'è nulla Madonna che ti stavo per sparare L'hai fatto prendere un bel colpo Cioè io sono venuto qui per cosa Poi ci sono venuto no Perché se non ci sono venuto Sarebbe interessante andarci Forse no Non me lo ricordo ragazzi Scusatevi Non so che sono a palla Ma Non ricordo assolutamente un cazzo Va bene Ok da qui sono venuto Va bene Non importa Andiamo su Oh invece no Non sono venuto Eh Sarà un bel casino Mi piace Mi piace Oh poverino Allora qui c'è il sacco Qui Qui Cosa cosa Rilassati E beh ci provo Sai Allora vediamo un po' Quanta bella roba c'è Se ti trovo te ne pentirai Guarda Eh lo so Tu sei unica Vai qui Spacca la testa Vai che questi Ti animo Eccolo Però Sono sbassacrato Gli ho spaccato tutto quanto Vediamo cosa ci dà Cartuccia Adesso posso anche evitare Di romper il Ma no Mi hai dato una cacata atomica Il ruolo di carisma E intelligenza È ottimo Perché è un B Bonus Sia carisma che intelligenza Madonna quanto ci servono Eh lo so Giorno di paga Giorno di paga Sì Ci servono tutti In effetti Un ottimo item Un ottimo item Però Io ho in mente La mia build finale Sarà con L'armatura di silver shroud Super potenziata Ovviamente E con la basica Fa cacare Vediamo cosa c'è E quindi Sì Ci vorrà un po' Ok Questo Se no Andrei L'armatura atomica L'armatura atomica Non è proprio Nelle mie righe Ecco diciamo Quindi è per quello Che non lo uso Vediamo se c'è qualcos'altro Dopo qui si va Da qui Da qui Eh sono venuto E devo andare Perché è la parte finale E quindi andiamo un attimo qua Andiamo a vedere Che cosa c'è C'era già Qualcosa di diverso Perché io questo Non l'ho preso Ok Andiamo a vedere Belle cose Ecco Qua devo venire Certo che Questo posto È veramente Dicevo È veramente un casino Perché c'è tanto Da vedere Qui mi ricordo Che dentro uno di questi lavandini Non qui Ne c'è Ah sono caduto Ma è piaciuto Usarti per spazzare il pavimento Eh deve essere stato carino Da forza sua Devo assolutamente Cercare meglio Perché Ciao Eccolo Hai trovato il numero Di manuale Per la torre US È più difficile Oh finalmente Adesso siamo più steltaggini Ma Eh continuavo È già caduta proprio Quando è esploso Brava Più stelt Meglio così Ecco qui Perfettico Andiamo adesso Vediamo se riesco A ritornare là Dove ero andato Perché Non ho finito La mia Ciao bella La mia esplorazione Di niente Qui vero Di niente Di niente Di niente Dovevo salire io Com'è che si saliva già Sopra Adesso di nuovo Eccolo qua Scusate ma Che tu eri già qui Ci vedete Allora Qua Tante belle cose Qua Non c'è niente Qua sì Qua c'è tanta bella roba Vediamo tutta L'avevo l'orologio L'orologio Che cazzo Non me lo dava Vabbè pazienza Faremo senza Qui ci dovrebbe essere Tanta roba Ok Prima di bruciata Accidenti Non ho letto bene E dopo qua C'è un'altra roba ancora Siamo A cavallo Dovremmo aver fatto tutto Ah sì Qui Dicevo che c'era qualcosa E infatti Oh la sacra di sangue E la diacolo Che mi scazzo si chiama Perfetto Dovrei aver fatto tutto Adesso posso tranquillamente Andarmene Perché è quello che volevo fare Sì dall'inizio Di sotto Ed ecco qui Andiamo pure Adesso possiamo Tranquillamente andare Ad aprire Quella Stanza dove c'è L'armatura atomica E prepararci allo scontro Ecco qua Adesso usciamo Abbiamo la password A più porta Ah brutto E dovremmo esserci Perfetto Guardate L'avattato ci vuole Allora Stiamo Salvo un attimo Perché non so esattamente A parte che io dovrei salire Un attimo qua Perché sul tetto Abbiamo ammazzato Diverse cose Noi Diversi Torrette E quindi le vorrei prendere Le compese Però vorrei anche vedere Se c'è qualcos'altro Tra la torretta Perché Potrebbe esserci Delle cose E quindi vorrei guardare In effetti Guardate Guardate Niente di che Speriamo di meglio Ok andiamo pure giù E andiamo E speriamo bene Perché noi Promette che Nel momento che Apriamo questa porta Parte il segnale Che da qualche parte Non mi ricordo dov'è E apre un'altra cosa Dove c'è il mostro E vabbè pazienza Il mostro La sentinella Eccoci qua All'interno Adesso queste qui Ci servono Perché Sono fibra ottica E cose che ci interessano molto Fa dei potenziamenti Non ho mai capito A cosa servono Tutti questi cosi strani Ah ma giù te lo spiegherò Allora Qui già possiamo andare Ma aspettiamo Vediamo un po' Vediamo fuori questo Mi scusi Come è fomentata lei Proprio Gli piace proprio Allora vediamo un po' Prendiamo altra roba Qui apriamo Così magari lei Le prende bene Ovviamente Adesso abbiamo più forcine Ne abbiamo trovate Ok ce l'abbiamo fatta Ottimo Le munizioni Oh bellino questo Fucile da cecchino Ed ha 308 Niente 308 le abbiamo già Ma che ti è piaciuto Ovviamente Eh Ci vorrà tempo Però ne vale davvero la pena Perché ci danno a quest finale Che è spettacolare Eccoci qua E qui Ancora Finché ero no fanatico Di armi Ha più avanzato Non posso intervenire Dovremmo Allora Per questo Manca Livello 18 Sono già al massimo No Al livello 18 Al livello 31 Quindi insomma 3 livelli Poi Questo 39 Qui ci vogliono In 10 livelli Ragazzi siamo Tanto lontani Quindi andrei Di questo Sicuro E di questo Si Sono le uniche cose Che mi viene in mente Adesso Ok Andiamo pure a prendere L'armatura atomica Oh ma c'è qualcuno Lì dentro Adesso la mettiamo per bene Comandi Apro Apro E anche questa è andata Se si sbiga Grazie Cazzo Ho fatto la maturata Si senti Sei tosto Eh cavoli Mi hai Radiattivato Proprio Ok Andata Perfetto Questa è la recestione Della volta Tanta fantasticolla Nastro americano Finalmente che ci servirà Tanto Io quando lo trovo Sono contentissimo Il nastro americano Perché è molto difficile Ce ne serve Evidentemente tanto E quindi Per quello che Mi serve Cavolo Oh Dell'altro Ottimo Vedete che Fanno sempre comodo Ok Adesso possiamo prendere Ah Le cose L'armatura atomica Senza nessun problema Ok Salviamo Dovrebbe E questa è la X01 Dovrebbe Se non ricordo male Sapete E deve essere la più potente Punt'è poi non è completa Però Pazienza Andiamo Ok Entra Perfetto A meno sono un pochino più Protetto Questa si che è vita Eh In teoria No non ho più i pezzi di vita Peccato Repariamoci Perché sarà una 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 Dura lotta Ok Eccoci qua E già Eh Fammi uscire Fammi uscire Prima Ok Oh Chissà che è male Oh Per fortuna L'armatura atomica Ci ha Diciamo Aiutato Per il Le radiazioni E l'impatto Della Delle esplosioni Sono contento Vai Ci aveva fatta Proprio bene Bene Punizioni Nucleo 2 Addirittura Oh Quante belle cose Benissimo Io adesso Mi teletrasporto Guarda qui abbiamo Girato tutto Mi teletrasporto A La casa Dove c'è presto Eccetera Per mettere un'altra Amatura atomica Non c'è più signora Amatura atomica Non so perché E così La sistemo lì E dopo Nel prossimo episodio Andremo da A fare La terza Terzo Paladino E troveremo Un'altra Amatura atomica Quindi ragazzi Io come al solito Vi invito a lasciare Un like Un commento Se mi piace La serie E farvi appunto Sapere cosa ne pensate E per adesso Vi saluto La sciva Ciao Ciao